Siamo con Toni Cappellari, ovviamente parliamo dell'Olimpia in Milano, si apre un nuovo ciclo, tanti nuovi arrivi a cominciare dall'allenatore. Pianeggiani può essere l'uomo giusto per questa squadra? Sicuramente, Pianeggiani è uno degli allenatori migliori italiani, europei, sicuramente ha avuto grandi esperienze nel club. Partiamo dalla casa sua, la mensana e tutto quello che ha fatto Federvacce, poi Israele quest'anno. Lui è sicuramente un super, conosce a meraviglia il nostro campionato e l'Europa e sono convinto che farà bene, molto bene. È stato fatto anche un mercato importante, tanti volti nuovi, tanti americani di spessore, soprattutto dietro, c'è qualcuno che ti piace di più? Gli stranieri sono sicuramente di primissimo livello, speriamo, visto che si parla un po' nei corridoi, che qualche d'uno non è fisicamente a postissimo, speriamo che siano tutti quanti siani, ma io credo un'altra cosa, parlo noi perché mi sento sempre Olimpia, dopo 27 anni che ci sono stato dentro, abbiamo gli italiani che sono fortissimi e io sono sicuro che Pascolo e Fontecchio quest'anno faranno un super campionato. L'obiettivo ovviamente primario è tornare a vincere in Italia, perché non dimentichiamoci che questa squadra comunque ha perso lo scudetto. In Eurolega invece però, cosa ci dobbiamo aspettare da questa squadra? Allora, in Italia sicuramente è una squadra da titolo, in Europa bisogna un po' vedere, il basket europeo che si dica è completamente diverso dal basket italiano e speriamo che dopo due ultime Euroleghe fatte così così, che ci sia un Eurolega di livello. E anche lì, a mio parere, Pianeggiani ha una conoscenza che forse nel passato non c'era.